Buonasera a tutti. Si seurisce lentamente l'afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani, che in questi giorni ha condizionato il tempo sulla nostra regione. Il vortice depressionario si muove verso l'Anatolia e con lui a seguire l'aria fredda migra verso Oriente, con il suo carico di instabilità. A seguire, lo spanciamento da ovest dell'anticiclone dell'Azzorre assicurerà un periodo più mite sull'Italia, anche se non mancheranno nella prossima settimana, dei passaggi nuvolosi rapidi provenienti dall'Oceano Atlantico, in grado di far aumentare la ventilazione sud-occidentale e portare qualche spiovasco sparso. Per ora il freddo va in ritirata verso l'Europa orientale, in attesa, chissà, di una nuova vista intorno al 20 gennaio, visto che i modelli matematici già da ora iniziano a fiutare questa possibilità. Dunque sì, avremo una pausa più calda di una decina di giorni, ma vedrete che l'inverno tornerà a ruggire dalla terza decada in poi. Passiamo ora alle previsioni del tempo per domani, sabato 12 gennaio. Cielo poco nuvoloso su Abruzzo settentrionale e provincia di L'Aquila, più nuvoloso su Abruzzo centro-meridionale, ma in rapido miglioramento già dalla mattinata. Attenzione, per la prossima notte, forti gelate ovunque, specie dove i cieli diverranno sereni e con neve al suolo. I venti saranno moderati da nord, ma in attenuazione, così come i mari, ancora mossi in mattinata, ma con motondosi in diminuzione. Temperature che nella provincia di L'Aquila torneranno a sfiorare i meno 10 gradi nelle prime ore del mattino, ma saranno rigide anche sulle località costiere, comunque comprese tra meno 8 gradi delle zone di montagna e meno un grado delle coste. Le massime, in ripresa per via del solleggiamento, saranno comprese tra i due gradi delle località di montagna e 8 di quelle costiere. Ci fermiamo qui, grazie della cortesa attenzione, da Pierluigi, un saluto a tutti.